Siccome al momento del terremoto chi amministrava era lo stesso che amministrava il giorno prima del terremoto molti amministratori pensavano di poter continuare ad agire così come si faceva prima del terremoto e è stato un errore fatale per chi si amministrava, perché non avevano capito la portata dello shock proprio che aveva ricevuto la gente non guardava più in bacio a nessuno Perché noi non abbiamo il cuore, non abbiamo il numero legale Se mi dicono qualcosa in merito al Signore o chi per esso, allora mi faranno incazzare dal bello Questo è il problema Un paese molto colpito dal sisma, da un altro lato a... Molto colpito dal daugosismo Vennero qua dei ragazzini di vent'anni Di Leila Di Leila Con attrezzatura da giardinaggio Quelli che hanno finito di studio, adesso non sono qua Chi è al nord, chi sta in Germania Facciamo questo palazzo, poi ne facciamo un altro casualmente all'altra parte e il risultato è quello che vedete La stragrande maggioranza dei cittadini volevano che il paese fosse recuperato, ricostruito dove era e che il paese dove restare così com'era Di zona così, di piene e di vuoti, è fatta l'Europa Napoli che si muore perché sono troppi e qui si muore perché siamo pochi Tutto questo sono a 120 km di distanza Grazie a tutti Grazie a tutti